Intensificati i controlli dei carabinieri della compagnia di Alghero nel corso del fine settimana. Sabato notte i militari hanno proceduto all'arresto di un giovane di 19 anni incensurato, ritenuto responsabile di furto aggravato di un'auto. Il 19enne è stato giudicato con rito direttissimo presso il tribunale di Sassari e il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sempre i carabinieri della compagnia algherese hanno arrestato un 34enne senegalese responsabile di violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale, notificato lo scorso 15 maggio. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto all'accompagnamento alla frontiera dell'uomo.